Riordino delle province, la parola agli abitanti di Ottone, oltre il 60% di coloro che hanno risposto all'interrogativo posto dal comune in una sorta di consultazione aperta alla cittadinanza, sceglie la Liguria, ovvero l'aggregazione di Ottone alla nuova città metropolitana di Genova. La speranza precisa è il sindaco Piazza, è comunque che l'ente Piacentino resti in vita. A rispondere è stato il 34% degli avventi diritto, numeri significativi ma non abbastanza per un eventuale referendum. Intanto bisognerà attendere, mi par di capire quelle che saranno le iniziative del futuro governo, dopodiché vedremo di fare delle valutazioni. Certamente l'ipotesi più semplice è quella del referendum che però vede un problema, che è un problema numerico ad Ottone, in quanto storicamente dal dopoguerra fino a oggi nessun referendum ha mai raggiunto il quorum necessario che prevede che almeno il 50% più uno degli avventi diritto al voto si recchia le urne. Quindi questo diventerebbe un problema, allora prima di effettuare un referendum bisogna fare un'attenta analisi dei dati proprio per evitare di portare avanti un'iniziativa che avrebbe dei costi e dei tempi e anche un aspetto organizzativo abbastanza impegnativo. Faremo i ragionamenti del caso nel momento in cui ci sarà la necessità di farli e quindi però sulla base di questo dato di oggi cercheremo di portare avanti le diverse iniziative.